Siamo qui che ti aspettiamo! Ancora non l'hai comprato? E allora Vattela a Pianvercuneo.it Sì! No tu sai Che da oggi puoi comprare Quel che vuoi Dai E da tutto quanto ci pensiamo noi Sai Siamo smarzi in tutta Italia Vattela a Pianvercuneo.it Lai 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 Ho capito Bravo Venga qua Il maestro è il testimonial di questa Signor Massimiliano la prego di non ridere di lui Perché a differenza sua lui dopo il costume se lo leva Ok? Ok Prego Allora venga Non posso Come non posso? Non entro Ma come non entra? Su veloce Ma non entro Venga si accomodi Coraggio Allora il prodotto che vendete oggi Che offrite oggi è il canguro Immagino no? Forza Su Veloce Ma lo vede che c'entra Scalcio eh Il canguro scalcio Io licenzio Io licenzio Il canguro calm per la prima volta Ma lo vede che ce n'est Allora vede che c'entra In Grazie a tutti